Domenica 9 a Pallanzeno si terrà la cerimonia per l'intitolazione del centro sportivo comunale ad Angelo Petrulli. La manifestazione in onore di uno dei personaggi sportivi più rappresentativi del nostro territorio sarà aperta a tutti. Petrulli dopo la caduta da un ponteggio a nemmeno 20 anni nel 1968 che lo ha relegato sulla sedia a rotelle ha fatto dello sport una ragione di vita. Nel 1996 divenne anima e presidente della GSH Sempione che negli anni ha avvicinato tantissimi disabili allo sport e nel 1997 venne nominato cavaliere dall'allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro per meriti sportivi. Alle 9 di domenica verrà scoperta la targa a lui dedicata dalle 10 prenderanno il via le varie attività sportive tra cui gara di lancio del peso del giavellotto e del disco da parte degli atleti del GSH Sempione che disputeranno anche delle partite di basket. Alla stessa ora prenderà il via la corsa podistica il quadrangolare di calcio della società Fomarco e la dimostrazione della scuola di judo di Pallanzeno. Nel pomeriggio riprenderanno le attività sportive e alle 16 e 30 si terranno le varie premiazioni. All'evento parteciperà anche la fanfara Bersaglieri Valdossola.